Dopo la mia relazione Stefano Bonaccini, a nome della Commissione, presenterà e illustrerà alla direzione i punti del regolamento, i quali muovono dal raccordo necessario tra le linee del documento politico approvato dall'Assemblea nazionale della settimana scorsa e l'invarianza dello statuto che si è reso necessario per le vicende della nostra Assemblea. E io credo che dentro questa impostazione e anche nella discussione di oggi troveremo anche la modalità per risolvere in maniera corretta il problema del rapporto tra il candidato segretario e il candidato alla leadership del Governo del Paese.